Ha tentato di togliersi la vita impiccandosi ieri notte nella sua cella Gerardo Tarantino, l'uomo accusato di aver ucciso martedì sera Ortanova con alcune coltellate Tiziana Gentile, bracciante agricola di 48 anni. L'indagato detenuto nel carcere di Foggia sarebbe stato tratto in salvo dagli agenti della polizia penitenziaria. Intanto il suo legale, l'avvocato Michele Sodrio, ha spiegato che il presunto omicida in occasione dell'udienza di convaglia del fermo che si svolgerà domani mattina accetterà di sottoporsa all'interrogatorio del GIP e fornirà la sua versione dei fatti. Ho nuovamente incontrato questa mattina in carcere Gerardo Tarantino e se possibile ho visto una persona in uno stato psicologico ancor più grave e ancor più confuso e devastato. Ha continuato a ripetere ossessivamente che lui è innocente, che non c'entra nulla e mi ha riferito una serie di circostanze obiettivamente poco credibili, questo lo devo riconoscere, e soprattutto in forte, insanabile contrasto con tutto quello che è stato accertato nel frattempo dai carabinieri e che è stato riportato nel decreto di fermo. A questo punto gli ho consigliato comunque di rispondere domani in sede di interrogatorio davanti al GIP e francamente non sono in grado di prevedere che cosa dirà e che cosa accadrà, però è bene che il giudice e il pubblico ministero, se interverrà, si rendano conto di quali sono le condizioni di questa persona. Io da canto mio non ho intenzione al momento di chiedere alcuna perizia psichiatrica perché attendo gli sviluppi delle indagini che sono ancora in corso e né intendo oppormi alla sicura richiesta di custodia cautelare in carcere che sarà formalizzata dal pubblico ministero. Questo è il tempo da parte nostra dell'attesa e della riflessione. Vedremo quali saranno l'esito delle indagini preliminari e ho chiesto però che sia mantenuta una sorveglianza strettissima H24 sul Tarantino perché mi ha riferito ed ho avuto conferma in tal senso dal personale del carcere di avere tentato il suicidio questa notte scorsa mediante impiccagione. È una cosa assolutamente inquietante e non si può consentire che una persona nelle mani dello Stato arrivi al punto di togliersi la vita. Quindi ho chiesto espressamente a tutte le autorità competenti in particolare alla direzione del carcere che sia sorvegliato H24 e mai perso di vista. Vedremo quindi che cosa accadrà dopo l'interrogatorio e che cosa effettivamente dirà.